Occhio al Sindaco Occhio alla nostra trasmissione che ci permette di conoscere meglio chi sono i candidati sindaco nel Comune di Petrasanta Oggi si tiene con il pontile sullo sfondo Nostro ospite è Massimo Mallegni che è già stato sindaco dal 2000 al 2010 di Petrasanta Buongiorno Allora entriamo immediatamente nel merito perché lo spazio a nostra disposizione non è molto A gennaio del 2006 davanti alle telecamere di Mezza Italia Massimo Mallegni viene arrestato alle 7 del mattino Chi ti ha spinto Massimo a tornare a candidarti dopo queste esperienze del passato? Allora era il 31 gennaio del 2006 erano le 6 e mezzo E chi mi ha spinto? Mi ha spinto l'onestà, la correttezza, l'innocenza e la gente Perché io l'ultima cosa a cui avrei mai pensato è quella di rifare il sindaco di Petrasanta Ma molti concittadini, molti amici, le associazioni, i partiti del centro-destra E non solo loro che hanno deciso anche di fare un passo indietro rispetto a questa candidatura Nel senso che hanno detto vai e noi rinunciamo a farci vedere Ma l'importante è che tu ci sia tu perché tu puoi portare del bene alla città di Petrasanta Mi hanno convinto a rimpegnarmi un'altra volta per questo territorio Io amo la mia terra, questa è una terra che ha bisogno di poche cose Perché i nostri concittadini sono persone veramente volenterose Ma qui bisogna riportare ordine, pulizia, il territorio è abbandonato, segnaletica verticale, orizzontale La sicurezza è fondamentale, nessuno è più tranquillo a casa sua I vigili urbani bisogna che stiano fuori e non in ufficio Bisogna che le cose belle del territorio Oggi siamo al pontile dove in fondo c'è la mia targa che c'è scritto chi l'ha fatto Perché delle volte ci si dimentica che sono state le opere pubbliche di 10 anni di amministrazione E quindi mi ha spinto tutto ciò a dire impegniamoci per il nostro territorio Noi abbiamo tre figli con Paola che hanno 17, 18 e 19 anni A loro bisogna lasciare un paese diverso da quello che abbiamo vissuto in questi 5 anni Chi ci ha governato sono persone per bene, a modo che probabilmente Trovarsi a gestire una macchina così importante come quella del Comune Non era proprio cosa loro Bene, noi ci riproponiamo, abbiamo voglia, siamo persone nuove, persone giovani La lista è tutta nuova e la Giunta porta con sé in dote di grandi professionalità Di persone che hanno vissuto e vivono la società civile E noi decidiamo di andare in questa direzione Allora, la prima cosa che faresti qualora tu fossi riconfermato sindaco di Pietrasanta Quale sarebbe? Allora, intanto io devo immediatamente mettere mano alla questione della Corte dei Conti Perché in questi anni veramente hanno gestito il bilancio in maniera assurda Per una questione di tipo personale, di paure rispetto a una serie di cosiddetti residui Che voglio dire tutti i Comuni d'Italia hanno Perché l'unico in Italia, l'unico Comune in Italia che si è andato a autodenunciare Per una cosa che tutti hanno e che tutti voglio dire spalmano negli anni Come questi residui è il Comune di Pietrasanta In questo modo che è successo? Ha cristallizzato un problema I cittadini di Pietrasanta si sono trovati a pagare le tasse più care di tutta la Toscana Questa la ritengo una follia amministrativa Quindi la prima cosa che farò, riprendo in mano le carte Le spiego bene perché le conosco Andiamo in corte e gli diciamo il nostro piano di rientro è diverso Peraltro il governo, il governo Renzi ha con la legge di stabilità Deciso di spalmare in 30 anni i residui attivi di tutti i Comuni In Firenze c'è oltre 400 milioni di Euro Ma stiamo scherzando In Pietrasanta eravamo a 6 milioni e 8 Io in 10 anni ho cancellato 19 milioni e 800 mila Euro di residui attivi E non ho mai alzato le tasse ai cittadini Perché non sono mica andato a far gestire la politica e le cose del territorio A uno che ha attività e svolge attività giurisdizionale come la Corte e i giudici Quindi la prima cosa da fare è quella Abbassare le tasse e aumentare la sicurezza e pulire il territorio Aumentare la sicurezza e pulire il territorio Non posso pensare che le nostre signore anziane, i nostri bambini, le nostre famiglie, le nostre aziende Non possano stare sicuri a casa loro, non possano andare a passeggiare Metterò una videosorveglianza di dettaglio in tutto il territorio A disposizione delle forze dell'ordine e pulisco il territorio Oggi vengono fatte le strisce elettorali, le viste Sono a scadenza queste, sono strisce elettorali Le hanno fatte anche sull'Aurelia l'altro giorno E ha piovuto e sono scomparse Quindi vuol dire che la vernice era un pochino così Perché funziona così, strisce elettorali In cinque anni non si è visto nulla Ora sono arrivati a fare le strisce Peraltro le fanno e puliscono il territorio con l'emergenza del 5 marzo Invece di mettere l'energia elettrica per le strade Ora fanno vedere che fanno le strisce in terra e puliscono i giardini Ma non ci prendiamo in giro Questa veramente è prendere in giro le persone E noi su questa cosa non transigiamo Non sei né un uomo presuntuoso per quello che riguarda le cose che riguardano l'amministrazione Né tantomeno un visionario Però pensare alla sicurezza, pensare a questi interventi pubblici Con le condizioni economiche che stanno attraversando oggi tutti gli enti pubblici È abbastanza difficile Le risorse economiche dove pensi di trovarle? Ma il Comune di Pietrasanta è uno dei comuni più ricchi della Toscana In questi anni sono stati caricati sulle spalle dei cittadini 25 milioni di euro all'anno di tasse 11 milioni e 600 mila euro all'anno in più Rispetto a quelle che pagavano quando c'ero io E qualcuno dice, ma perché una parte deve ritornare allo Stato È perché lo Stato non ci fa più trasferimenti Allora, togliendo quella parte di trasferimenti che lo Stato non fa più E togliendo quella parte che deve essere restituita allo Stato per quanto riguarda l'Imu Ci rimangono ancora 6-7 milioni di euro in più di quello che gestivo io nel 2010 Ma chi vogliamo prendere in giro? Gli oneri di urbanizzazione sono scomparsi Siamo fatto un piano che fa schiantare dalle risate E la cosa che dobbiamo ovviamente è rimettere mano Io ho detto che in 60 giorni recupero 4 milioni e mezzo E intanto parto con l'opera pubblica e la pulizia Nel giro di 36 mesi riduco di 5 milioni di euro le tasse 5 milioni di euro le tasse 5 milioni di euro le tasse E tolgo la tassa di soggiorno Che è una cosa folle Perché Forte dei Marmi non ce l'ha Camaiore non ce l'ha Pietrasanta ce l'ha Anche lì penalizzando le imprese del turismo Anche Viareggio? Viareggio, ecco Viareggio La vostra Viareggio, la nostra Viareggio Che è in dissesto, un macello eccetera Non è la città che è più cara come tassi della Toscana È Pietrasanta Viareggio è al numero 2 E anzi staccata di parecchio Perché anche i neonati 1.340 euro a persona Compresi i neonati Pagano di tasse nel comune di Pietrasanta Ma è possibile che una cosa rimanga così? Nella vita ci vogliono le persone che sanno fare le cose E' giusto che le facciano Se io vado a fare un'operazione di cardiochirurgia Mi muore il paziente, sono sicuro Ma se io gestisco un'azienda La gestisco bene, con profitto e con redditualità Io devo gestire un'azienda Il comune è l'azienda più importante 40 milioni all'anno di bilancio E' questo che devo fare Le cose se si sanno fare, si fanno Se non si sanno fare, conviene cambiare mestiere Questo deve essere chiarissimo a tutti Il tuo cursus politico nasce nel Partito Socialista Poi passi in Forza Italia E nel 2010 All'ultimo appuntamento elettorale Ci furono degli screzi Delle divisioni all'interno del tuo partito Tant'è che tu prendesti le distanze Cos'è che ti ha riavvicinato al partito di Berlusconi? Io sono sempre stato iscritto a Forza Italia Poi durante il periodo della questione processuale Non lo sono stato più Ho fatto un passo indietro per non mettere in imbarazzo nessuno Oggi sono tornato, mi sono ancora iscritto a Forza Italia Ci sono persone veramente in gamba nel partito Che guardano oltre la siepe Come diceva Leopardi E sono Deborah Bergamini E sono Renato Brunetta E sono Maria Rosaria Rossi E sono Giovanni Toti E in particolare un Berlusconi che ha capito tutto Ha capito tutto Ha deciso di fare il padre nobile del partito Ha deciso di dare spazio a questi quarantenni Che qua e là sul territorio Si atteggiano anche a fare candidati a sindaco Come nel caso mio E di conseguenza guardiamo al futuro Perché un'altra si diceva Non voglio morire democristiano Dicevano E forse non era una morte la più cattiva Che si potesse aspettare No, io non voglio morire renziano Lo dico chiaramente Lo dico chiaramente Io sono stato scavalcato da questo governo Sono stato scavalcato a destra Va bene Ma le cose di socialismo liberale Quindi aiutare le imprese E guardare a chi sta peggio di noi Sono continuamente alla base della mia vita Del mio programma Della mia storia E di conseguenza erano questi i principi Che partirono nel 94 con Forza Italia E oggi sono tornati di moda E vanno alla grande E di conseguenza noi dobbiamo sostenerli Tra questi però non hai citato Verdini Né tantomeno l'ex ministro dei valori pubblici Matteoli Ma io credo che nella vita Nemmeno Andreotti Che purtroppo è deceduto È più un Parlamento Piuttosto che altri La vita è un'evoluzione E voglio dire A di là dei leader nazionali Importanti come Berlusconi Che anche fra 20 anni Io spero che sarà ancora vivo E di conseguenza Continuerà ad essere un punto di riferimento Ma poi ci vuole un pochino di ricambio E quindi io credo che sia normale E ricambio in tutte le classi dirigenti E quindi se in Parlamento Dopo che hai fatto 4 legislature Arriva qualcun altro Che magari ne fa 2 E poi va a casa Perché secondo me Due legislature sono più che sufficienti Credo che sia un fatto importante Quindi queste che tu hai citato Sono persone che hanno lavorato molto Per il partito Hanno lavorato molto per il territorio E adesso ovviamente Come accade nella vita di tutti i giorni Si cambia e si va avanti E questo mi sembra un normale avvicendamento Delle questioni Torniamo a parlare invece Della politica di Pietrasanta Abbiamo parlato di sicurezza Abbiamo parlato di territorio Di ambiente Qualora tu diventassi sindaco La prima operazione che vorresti fare Però importante Che non è il decoro Il primo atto amministrativo Concreto, importante, serio Vero, possibile E sostenibile Quale sarebbe? Ma guarda che quello che io dicevo prima Perché gli atti amministrativi Riguardano ovviamente La quotidianità di tutti i giorni Al di là degli impianti di disinfezione Da mettere nei fossi a mare Perché io voglio un'estate pulita E non firmerò nessun divieto di balneazione Perché altrimenti l'economia Che è già in difficoltà Se ne va ancora Di chi sono le colpe però Se arriviamo a questi punti? Ma le colpe sono la questione dell'inquinamento Perché se non si risale a monte Non si esano utili scarichi nei fiumi Non se ne esce più Quindi intanto mettiamo gli impianti Iniziamo una verifica di fondo Sulla questione degli scarichi E poi portiamo a casa il risultato Ma va pulito il territorio Il primo atto amministrativo Stornare i fondi che saranno presenti Sul territorio E poi come ho detto prima Nei primi 60 giorni Voglio recuperare 4 milioni e mezzo Con un'operazione di tipo urbanistico Che non sarà Né nuova edificazione Né nuovi interventi edilizi Ma soltanto un fatto amministrativo Oltre ai colori bianco celesti Del Pietrasanta Qual è la squadra di calcio Per cui tifi? Io sono juventino Ma non sono preparato Sull'argomento Perché l'unico che sa Chi sono i calciatori della Juve È Matteo Che è mio figlio Li conosce bene Io conosco il calcio Perché so che ci sono Undici giocatori da una parte E undici dall'altra E devono fare gol Nella porta Nella porta E sulle imprecazioni varie Che durante la partita c'erano Però ovviamente Io sono estremamente sportivo Quando una squadra è all'estero Tifo per la squadra italiana Quando una squadra è in Italia Cerco di fare Diciamo così Meno tifo che possibile La sportività è fondamentale Ed essenziale Come auspico In questa campagna elettorale L'ultima dichiarazione Di redditi Che è presentata il fisco A quanto ammontava? Credo che fosse Intorno ai 34 mila euro Lo rifaresti il puntile Se non l'avessi fatto prima? Naturalmente Anche perché Non finisce qui Perché nel mio programma C'è la volontà Di allargare questa piazza E portare all'interno La strada del Via Lammare E quindi dare Ancora più visibilità Al centro di Pietrasanta In bocca al lupo A Massimo Mallegni Naturalmente per la tua Crepi il lupo E vi aspetto tutti Il 31 maggio Un saluto a tutti Un saluto a tutti Grazie per la visione!